benvenuti al primo video della playlist riguardante la psicopatologia questa raccolta comprende una serie di video lezioni dedicate alla psicopatologia e principali disturbi mentali l'obiettivo del corso è quello di far comprendere con un linguaggio semplice adatto a tutti cos'è la psicopatologia e quali sono le principali patologie che interessano la psiche questa raccolta di video non ha pretesa di completezza vuole semplicemente essere una trattazione il più possibile chiara vi invito infatti a seguire l'ordine di presentazione delle video lezioni per una maggiore comprensione degli argomenti al termine di ogni video troverete una slide contenente un test di apprendimento dei contenuti quattro domande risposta multipla per testare la vostra comprensione rispetto all'argomento un modo per mettervi alla prova inoltre vi invito a seguirmi anche sulla mia pagina facebook veronica servidio psicologa dove posso riflessioni e contenuti di psicologia accessibili gratuitamente all'interno invece del mio blog veronica servidiopsicologa.it troverete una serie di articoli frutto di studi ed esperienze acquisite sul campo se troverete utile questi video vi invito a condividerli con chiunque possa essere interessato dopo questa presentazione possiamo iniziare a trattare gli argomenti grazie per l'attenzione ci vediamo nel prossimo video dal titolo la psicopatologia che cos'è